Benvenuti in un nuovo spazio, accogliente, familiare, come le cose che amate di più. Accomodatevi. E viaggiate sulla strada della qualità e dello stile con una nuova Fiat Marea. Con una Fiat Marea entra nel nostro mondo un'auto di grande personalità. La noterete subito, dalla linea compatta e armoniosa fino al più piccolo dei dettagli. Fiat Marea è un'auto moderna, un concentrato di tecnologia e comfort. È un nuovo traguardo cui Fiat ha dedicato tutte le proprie capacità tecniche e creative. Il risultato è uno spazio capace di accogliere e proteggere ciò che amate di più. Basta guardarla per vedere un'auto di grande qualità e solidità. Un'auto costruita per darvi il piacere della guida e il gusto di una bella linea. Dentro Marea c'è tutto ciò di cui avete bisogno per viaggiare nel modo migliore. Fiat Marea c'è tutto ciò di un'auto 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 di un'auto. Lo stile innovativo, l'equilibrio delle forme, l'armonia delle linee, la capacità di sintesi si riflettono in tutti i dettagli. Fiat Marea è un'auto compatta. 4,39 metri per la berlina e 10 centimetri in più per la Weekend. Perché Fiat Marea non è solo una classica berlina, ma è anche un elegante e funzionale station weight. La Marea Weekend ha una personalità tutta sua. Ha la stessa armonia e ricchezza di dettagli della berlina, ma vi offre ancora più funzionalità, ancora più spazio. Il bagagliaio ha un volume di 500 decimetri cubi, che con i sedili ribaltati arriva a 1550 decimetri cubi. La soglia del pianale è molto bassa, la ribaltina, le forme arrotondate e le guide di scorrimento dei bagagli vi aiutano a caricare e scaricare senza problemi. La sicurezza passiva è garantita dall'airbag, singolo o doppio, di serie o a richiesta a seconda delle versioni. Dalle cinture pretenzionate, dai sedili antiscivolo, dalle barre alle cocchiere e dai sistemi di sicurezza per i bagagli. Su Marea Berlina e Marea Weekend sono previste sei motorizzazioni diverse, tutte plurivalvole, tre a benzina, 1600-1800-2000, con potenze comprese tra i 103 e i 147 cavalli. E tre motorizzazioni turbodiesel, da 1900-2400, con potenze da 75 a 124 cavalli. Diversi i livelli di velocità massima, di accelerazione e di consumi. Chilometri su chilometri senza problemi. Basta un controllo ogni 20.000 chilometri. Su Marea vi potete rilassare. L'indice di silenziosità è ottimo. A 120 all'ora nell'abitacolo si registrano meno di 73 decibel. La condizione ideale per ascoltare un po' di musica con l'autoradio di serie. Fiat Marea è un'auto pensata per chi ama viaggiare. Anche se cambiate strada, non cambierà il piacere di guidarla. La sua guidabilità è eccellente. Grazie al servostezzo, alla carreggiata larga e alle sospensioni a ruote indipendenti che funzionano come un vero e proprio filtro tra voi e la strada. Agilità e facilità di guida non vi abbandonano mai, nemmeno sui percorsi più impegnativi. L'autonomia di Fiat Marea è notevole soprattutto nelle versioni diesel. Con un pieno a 90 all'ora, fanno tutte più di 1000 chilometri. Con Fiat Marea viaggiate come più vi piace e arrivate lontano. Lontanissimo. Con 14 versioni per la berlina e altrettante per la weekend. Tre allestimenti standard SX, ELX, HLX e 15 colori. È facile scoprire la vostra Fiat Marea. Grande libertà di scelta anche per gli interni. Grigio beige per la plancia, tessuto o velluto per i rivestimenti, optional anche in pelle. Un'auto compatta fuori e grande dentro, con un valore di abitabilità di 87,9 contro una media della categoria di 80. Lo spazio è sfruttato nel modo più razionale e si adatta al numero dei passeggeri. Ci sono 5 posti comodi e c'è un posto per ogni cosa. Ci sono grandi e piccoli contenitori, tasche e vani portaoggetti ovunque. Tutto rende piacevole la vita a burro. Tutto è studiato per farvi star bene, sempre protetti. La sicurezza attiva è garantita da un impianto frenante pronto ed efficace, dotato di ABS di serie o a richiesta. La sentirete subito vostra, la nuova Fiat. Sempre pronta ad accogliervi. Dentro Fiat Marea vi ritrovate in un ambiente amichevole, armonioso, senza spigoli. I comandi principali e secondari sono studiati con cura. Funzionali e molto leggibili, rendono la guida sempre piacevole e sicura. Su Fiat Marea si respira aria pulita, c'è un neutralizzatore degli odori e sulle versioni superiori un sistema di climatizzazione particolarmente efficace e veloce, dotato di filtro antipolline. In caso di umidità, la funzione Max-Def disappanna i vetri in pochissimo tempo. C'è soltanto una cosa, che può offrirvi altrettanta protezione e uno spazio così familiare, ma può portarvi lontano solo con la fantasia. Fiat Marea e Marea Weekend. Il tuo spazio. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.